posso avere per te il caffè classico ecco un pochino, guarda che da rosa e chiudi gli occhi ciao, grazie di essere con voi oggi prima di cominciare questo video volevo solo dare credito di questa idea almeno io l'ho vista sul canale Whispering Will SMR io la trovo molto dolce e mi piacciono tantissimo questi video di coffee shop e makeup tutto in legno quindi ho preso ispirazione 100% da lei io ho visto i suoi, probabilmente ce ne sono altri simili ma io ho visto i suoi ciao 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 come stai? sono contenta, molto bene ti do il benvenuto in questo posticino speciale in cui tutto ciò che utilizzo è in legno pensavo di offrirti un caffè ti può andare? ok prendo subito la macchina e vado ecco eccola qui io la trovo di una dolcezza estrema come vedi ha tutto allora abbiamo quattro diverse scelte posso avere per te il caffè classico questo qui si classico robusto abbastanza forte molto cremoso molto buono posso avere posso avere vaniglia questo qui questa è vaniglia caffè aromatizzato alla vaniglia poi per te posso avere caffè aromatizzato al cacao molto molto buono questo te lo consiglio come ultima opzione invece se non ti va la caffeina o anche la capsula per il lega allora quale ti ispira? ok cacao ovviamente è un pochino più amaro forse vaniglia può fare più per te ok va bene che vaniglia sia allora metto la mia tazzina prendo la vaniglia come modalità posso fartene solo uno corto solo uno lungo oppure posso farti anche due caffè corti o due caffè lunghi di metà di metà di metà di metà di metà ok guardiamo guardiamo perfetto ok apriamo il tastino e aspettiamo il caffè no non è bollente ok ecco qui il tuo caffè ecco qui il tuo caffè vorresti per caso dello zucchero ok questo è zucchero di canna quante cucchiaini quanti cucchiaini? due cosa? uno e mezzo ok mezzo ecco qua lo vuoi manchiato? ok allora ti verso un pochino di latte basta ok ecco qua il tuo caffè attenzione che scotta ok ecco qua ecco qua ecco qua te lo lascio qui bene adesso che ti gusti il tuo caffè alla maniglia macchiato volevo volevo truccarti e sistemarti un pochino ti va? bene molto bene allora prendo tutti i miei attrezzi allora 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 intanto io comincerei se vuoi ti do una spruzzatina di profumo no no hai un buonissimo odore non è non ti preoccupare però secondo me questo profumo profumo potrebbe piacerti molto guarda che amore c'è un orso mi sembra immagino mamma orso col suo piccolino sulle spalle prova a sentire ti piace? ok allora molto bene ok e te lo metto un pochino qui sotto il cuore d'accordo? molto bene molto bene sono davvero contenta di pioggia molto bene sono davvero contenta di pioggia adesso ti tiro un attimo indietro i capelli e te li leggo con questo elastico ok 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 benissimo ok da cosa vuoi cominciare? ok io comincerei dagli occhi per i tuoi splendidi 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 occhi a questa palettina abbiamo questo giallo questo viola molto intenso è il rosina cipria chiaro e il rosso il rosso in realtà potrei anche saltare sulle guanze di metà ok quindi voglio un po' di rosina e un po' di viola tipo un po' di rosina qui e il viola invece ha i lati per dare profondità nello sguardo ok l'apertura è molto pratica io ho anche un bel pennellino quindi comincio e prendo un bel po' di rosa lo scarico e chiedi gli occhi ok ho fatto bene è rilassante è rilassante e sono contenta benissimo stupendo stupendo e adesso prendo anzi adesso vado sull'altro occhio si dopo ti ti faccio vedere com'è scarico un pochino guarda che va rosa e chiudi gli occhi ok i tuoi occhi sono già bellissimi così ma questa rosa li va proprio a fare un pochino anche sul lato ancora perfetto perfetto adesso vado a prendere il viola adesso vado a prendere il viola e vado nell'angolino no te lo metto anche un pochino sotto no? vuoi solo il mascara lì? ok te lo sfumo te lo sfumo ok te lo sfumo guarda sei un incanto vado 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 con l'altro occhio chiudi bene mi cerca di non muoverti ma come ti sta bene veramente incredibile non pensavo davvero non pensavo davvero di potesse stare così tanto bene poi prendiamo questa palettina per il blush adesso matita questa matita questa matita va benissimo sia per le sopracciglia sia per l'occhio per fare un pochino di eyeliner per riempirlo un pochino all'interno si è questo non direi proprio un nero direi più un marrone molto scuro e vado subito a riempirti un pochino le sopracciglia che sono già perfette così andiamo solo un pochino a valorizzarle ecco molto bene passiamo all'altra com'è? è rilassante? pensi? l'acqua che ce l'ha chprised soprattutto qui si ho speso leيد pierre adesso adesso vado a riempirti un pochino qui sotto per poi mettere il mascara ok? quindi ti alzo un pochino l'occhio benissimo anche questa non la vuoi sotto la vuoi questo che è? allora anche l'altra parte sopra e anche sotto benissimo direi 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 di passare al mascara quanto è bellino è nero come vedi scarico via l'accesso guarda in basso guarda in basso up, up, up up, up, up up, up, up up, up, up up, 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 up up, 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 up e anche sotto, oltre in alto vuoi vederti intanto? guarda, ti faccio vedere anche solo a parte che sei benissimo poi questo mascara ti fa delle ciglia questo specchietto fa vedere il mio make up ho messo direi bene, no? e ti lascio vedere ti piace per ora? si, guarda pure bene, 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 bene e sono super super contenta ok te l'avevo detto, rosa e viola insieme bellissimi, bellissimi ok adesso mettiamo un po' di ciprio anche questo è veramente carinissimo ah, una parte color nino una parte rosa una parte rosa e dentro a questo cosino non so come si chiama ok, prolevo un pochino di ciprio e vado soprattutto nelle zone in cui tendi un pochino a lucidarti ok la vado un pochino un pochino sotto gli occhi anche sotto l'altro ok un pochino sulla fronte e un pochino e un pochino anche sul mento e adesso direi che possiamo mettere un pochino di blush abbiamo quasi finito vado a metterlo con le dito ok prendo questo rosso che in realtà non sarà così rosso sulle tue guance e vado a picchiettarlo con questo dito e vado a picchiettarlo ti dà un aspetto fresco sì ok stupendo adesso è arrivata l'ora del tocco finale il rossetto come vedi è un rossetto rosso un pochino caldo ma in realtà risulterà più come un burro cacao ecco poi in realtà te è sempre più aranzato di quanto sia veramente una volta sulle labbra ok vado ok ti ho labbra morbide benissimo benissimo vado un pochino glit ad ammorbidirlo questo è il numero 05 non so il pack in canna sembra rosa ma è solo il pack in tutta la linea vedi che tutti sono rosa volevo solo darti un ultimo tocco perché vedi ho anche phone e pettine sì noi serviamo serviamo facciamo anche servizi per lucchieri ok e pensavo di diciamo sistemarti un pochino i capelli indietro ok un pochino con l'aria un pochino con il pettine d'accordo ok allora bene e vado un pochino benissimo 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 in realtà se provo io avrei uno che ti vissi non tocco solo se vuoi, solo se ti va potrei applicarti un pochino lo smalto molto velocemente ok? ok anche questo smalto rosa un pochino più sul lilla molto molto carino sì tipo il colore del boccetto questo è il numero 8 si basta una passatina veloce perché in realtà è un pochino un riflesso ok dammi pure la mano aspetta ok benissimo dammi pure anche l'altro dammi un attimo le occhie ecco qua si asciugherò un attimo bene la nostra piccola sessione di bellezza è finita io spero ti sia piaciuta dammi una buona recensione se ti è piaciuta se pensi che il nostro servizio sia stato rilassante ah dammi pure l'adazione ok grazie e sì magari ti aspetto per il nostro servizio di parrucchieri quindi o per altro veramente auguriamo di tutto qui grazie a te ciao buona giornata ciao ciao